Maccheroni alla chitarra Due mazzetti di rucola, prezzemolo tritato, un pizzico di sale e pepe e olio extravergine di oliva solo olive italiane de cecco Iniziamo dai ganderi che vanno prima lessati e poi messi in un recipiente insieme al salmone tagliato a listarelle e alle foglioline di rucola ben lavate A parte mettiamo a cuocere i maccheroni alla chitarra Li scoliamo piuttosto al dente e li versiamo in un piatto di portata Aggiungiamo il sugo di pesce preparato A questo punto basta amalgamare con un po' di olio extravergine a freddo e servire con una generosa macinata di pepe Per questa ricetta il sommelier consiglia un riviera ligure di ponente e vermentino o un colli martani grechetto oppure un pigato ligure serviti tra gli 8 e i 10 gradi